... Voglio innanzitutto dirvi che ho un gran piacere ad essere in questa bellissima città di Roma. Il piacere che ho di essere in mezzo a questi amici di Società Libera e ringrazio dunque il dottor Vincenzo Lita di avermi invitato a partecipare a questa riunione. E riempiango di non parlare italiano, purtroppo mi dispiace questa bellissima lingua che ammiro. La civiltà occidentale, che dovremmo forse chiamare la civiltà europea, è stata un modello unico nella storia dell'umanità. E credo che sia questo spirito che dobbiamo ritrovare adesso. In effetti è in Europa che abbiamo visto emergere i grandi principi che hanno permesso il suo sviluppo e il suo successo economico. Innanzitutto, essenzialmente, il rispetto dell'individuo. Piuttosto che gli individui siano giudicati come membri di una comunità, erano rispettati come individui e persone. Questo ci è stato portato dal cristianesimo, dal rinascimento, con vari mezzi. Ma questo rispetto dell'individuo come fondamento delle società, credo che sia una caratteristica della civiltà europea che dobbiamo ritrovare. Ovviamente questo rispetto dell'individuo implica il rispetto della sua libertà, il rispetto dei suoi diritti di proprietà, che sono inseparabili. Non c'è libertà senza che si rispettano i diritti di proprietà legittimi. E per quello che mi riguarda io considero che i diritti di proprietà legittimi sono quelli che risultano dalla creazione, da uno sforzo di creazione umana. Uno sforzo di creazione umana. E quindi mi sembra auspicabile che questi grandi principi siano la base dell'integrazione europea. L'unificazione europea è l'unificazione intorno ai principi. E forse bisogna pensare a delle istituzioni che possano favorire questa difesa dei diritti individuali. È l'attaccamento a questi principi che ci permette di parlare di una civiltà occidentale europea. E dunque dobbiamo ricercarne le implicazioni. Ma il riferimento alla storia mi sembra anche che porti una lezione importante da un altro punto di vista. Dal punto di vista che potremmo chiamare politico. In effetti l'Europa storicamente più o meno fino al XIX secolo è stata estremamente diversificata. Composta da regni, da principati più o meno grandi, da città libere. È stata molto diversa nei fatti ma unita da questi principi, da questa cultura europea che possiamo considerare come una cultura unica. L'Italia del resto è un esempio da questo punto di vista perché è stata a lungo composta da diversi stati, da diversi regni, diversi principati. Cosa che non impediva un'unità culturale. Dunque dobbiamo ritrovare, credo, questa diversità nei fatti ma questa unità nella difesa dei principi. Allora, ora ne vengo all'integrazione europea del nostro tempo. Ci sono, mi sembra, due visioni fondamentali, fondamentalmente opposte di questa integrazione. La visione dominante consiste nel dire che bisogna costruire un superstato sul modello degli stati nazione dell'epoca moderna. Un superstato centralizzato dove si armonizza tutto, dove ci sono delle politiche comuni. E poi l'altra concezione, quella che io difendo e che penso che molti di voi difendano, consiste nel dire che l'integrazione deve rappresentare l'esistenza di uno spazio di libertà e che bisogna dunque sopprimere tutti gli ostacoli alla libertà, alla libertà contrattuale, allo scambio. Dal punto di vista economico, questo implica quello che si può chiamare la concorrenza, perché la concorrenza si può definire come la libertà di agire, la libertà contrattuale. La concorrenza è una cosa importante, perché, come l'ha spiegato molto bene il grande economista Friedrich Hayek, è un processo di scoperta. Quando gli individui, le imprese, sono in concorrenza, sono incitati a scoprirsi, a innovare. E uno degli elementi importanti proprio della concorrenza è che porta la differenziazione, non all'omogenizzazione, non all'armonizzazione, ma alla diversità. E quello che voglio sottolineare è che se siamo in Europa affezionati al principio della libertà umana, la libertà di scambio, la libertà contrattuale, ebbene necessariamente questo è opposto all'idea di armonizzare. E dunque l'integrazione europea, che ha per obiettivo di armonizzare tutto ciò che esiste in Europa, mi sembra essere contraria a questi grandi principi di origine europea. Dunque la concorrenza è auspicabile perché è il rispetto della libertà e perché ha come conseguenza il fatto di incitare gli individui a fare meglio degli altri e quindi a innovare. Ma è auspicabile anche da un altro punto di vista. In tutti i campi è auspicabile, per esempio nel campo delle politiche economiche. Invece di avere un'armonizzazione delle politiche fiscali, delle regolamentazioni, delle leggi, delle norme, eccetera, forse della moneta ma dopo ci tornerò su, è preferibile avere una concorrenza fra le politiche. L'integrazione europea, mi sembra, non può avere senso, può avere senso solo se questo spazio di concorrenza c'è sia per le politiche economiche che per tutte le politiche, qualunque esse siano. La concezione dominante invece consiste a fare un'unificazione economica, ma là dove la politica avanza l'economia e la libertà vanno indietro e quindi l'armonizzazione da questo punto di vista è un pericolo. Molto spesso si rimprovera la globalizzazione, cioè la concorrenza su scala mondiale, di rischiare di creare una standardizzazione o nell'americanizzazione, come si dice. Io penso che sia il contrario perché proprio precisamente la concorrenza porta sempre alla diversità ed è al contrario, sono gli sforzi fatti o in Europa o nel resto del mondo per coordinare le politiche economiche che rischiano invece di creare l'uniformizzazione. L'uniformazione non è auspicabile e questo è già stato detto prima che è caratteristico il fatto che siano i piccoli paesi indipendenti ad essere al tempo stesso i più liberi e più ricchi. La Svizzera, Singapore, Hong Kong eccetera non hanno bisogno di avere un'integrazione politica. Ciò di cui hanno bisogno e quello che sono riusciti a fare sono di aprirsi al mondo. Dunque non è per niente necessario che si impongano a tutti gli europei le stesse regolamentazioni. Da questo punto di vista direi che c'è un mito molto comune, il mito della gran dimensione. Spesso è stato detto per esempio è necessario fare l'integrazione politica dell'Europa per fronteggiare gli Stati Uniti e la Russia ma io credo che questo sia un'illusione e vorrei fare un paragone. Molto spesso si ritiene che esistano delle economie di scala nell'economia e che un'impresa è tanto più efficace quanto più grande. Dal punto di vista tecnico a volte è vero, non sempre, ma il rischio della grande dimensione è il rischio di quello che si può chiamare della diseconomia umana, cioè della burocratizzazione delle decisioni, l'allontanamento del potere rispetto agli individui. E' la stessa cosa per i paesi. Il rischio dell'integrazione politica è la burocratizzazione, è il rischio che il potere sia allontanato dai cittadini. A varie riprese sono stati citati gli Stati Uniti oggi. Se gli Stati Uniti sono stati un modello economico non è grazie alla loro grande dimensione ma perché erano fondati sulla libertà. La Costituzione americana da questo punto di vista è un modello. Consisteva inizialmente nel difendere l'indipendenza di ognuno degli Stati americani e soprattutto nel difendere la libertà individuale rispetto al potere politico. Col tempo il potere centrale si è rinforzato purtroppo, cosa che prova che c'è una deriva nella centralizzazione del potere. E' per questo che in Europa dovremmo ben guardarci da questo rischio e forse già cominciamo troppo a avere un'integrazione politica centralizzata e burocratica. Dovremmo al contrario cercare di istituire gli strumenti della decentralizzazione e della difesa delle libertà individuali. Dovremmo avere a livello delle politiche economiche un approccio di tipo concorrenziale. Cito ancora Friedrich Hayek che diceva che il mercato è un processo di coordinamento e in questo senso un mercato libero e la concorrenza sono degli strumenti di integrazione. Possiamo dire che un sistema è integrato se le sue parti funzionano in maniera coerente fra di loro. Questo non implica assolutamente che siano identiche né che siano sottomessi a un'autorità centrale. Quello che è importante è che ci sia un coordinamento e questo coordinamento si fa attraverso la libertà. Un punto che vorrei sottolineare è anche il seguente e cioè che spesso si confondono la concorrenza e l'armonizzazione delle condizioni della concorrenza. Si dice spesso che non è giusto mettere fra loro le imprese in concorrenza se non sono nelle stesse condizioni, negli stessi ambienti e se hanno per esempio delle politiche fiscali, delle norme differenti. E questo argomento spesso viene portato avanti per chiedere l'armonizzazione delle politiche economiche in Europa. Perché si vuole dire che la concorrenza non vuole funzionare in maniera corretta senza questa armonizzazione? Da parte mia io penso che sia completamente falso e vorrei darvi un esempio che mi piace citare che è il seguente dal punto di vista economico. In Europa esistono dei produttori di pomodori nel sud dell'Europa, in Italia, in Spagna, nel sud della Francia che utilizzano i raggi del sole che sono gratis. E però ci sono comunque lo stesso dei produttori di pomodori in Olanda che usano delle serre scaldate col gas naturale. Allora potremmo dire che la concorrenza non è giusta perché alcuni hanno il sole a gratis e invece bisogna armonizzare le condizioni di soleggiatura. E quindi bisogna vietare ai produttori di pomodori nel sud di avere troppo sole e quindi devono mettere delle stoppe sulle loro piante per avere le stesse condizioni di copertura del sole di quelle dell'Olanda. E' assurdo ovviamente e la stessa cosa riguarda la fiscalità, i regolamenti, le regole. Non è perché abbiamo regolamenti e fiscalità diverse che non esiste la concorrenza. È precisamente il ruolo di un imprenditore quello di essere concorrenziale, è competitivo, di fare concorrenza agli altri anche se è in un ambiente diverso. E questo proprio stimola la concorrenza e l'innovazione, il fatto di essere in contesti diversi. La libertà di scelta dei cittadini è importante. A volte ovviamente implica la necessità di esiliarsi e questo è un problema che conosciamo bene in Francia perché purtroppo abbiamo un eccesso spaventoso di fiscalità e di politica fiscale e di regolamentazione. Ma io credo che bisognerebbe andare oltre nella concorrenza delle politiche economiche e lasciare una libertà di scelta. E ho apprezzato quello che è stato detto prima a proposito di quello che si chiama il turismo giudiziario. Perché potremmo benissimo immaginare un'Europa dove ci sia precisamente la libertà per i cittadini di scegliere la legge o le regolamentazioni che siano le migliori. Per esempio invece di avere come cerchiamo di fare come molti lo auspicano uno statuto europeo dell'impresa sarebbe di gran lunga preferibile poter scegliere di utilizzare la legislazione di tale o tale paese liberamente perché la si considera più efficace e vedremmo così spontaneamente una selezione delle leggi più efficaci. Non è un'utopia. Forse è proprio un'idea fondamentale da portare avanti. Invece l'armonizzazione da parte tua suppone implicitamente che le autorità europee per mezzo di qualche miracolo possano immaginare la politica migliore. Ma non abbiamo nessuna garanzia da questo punto di vista. Ora, se una legge, una regolamentazione o un regime fiscale sono stupide non sono per questo meno stupide per il fatto di essere armonizzate. Se un regime fiscale è spogliatore, non lo è, non sarà di meno solo se è armonizzato. Ma quello che è importante è proprio permettere la concorrenza. Da parte mia, siccome vedo che la Commissione europea annuncia che cerca di istituire quello che si chiama un zoccolo sociale sul modello di quello francese che è quello che dovrebbe essere considerato come un respingitore e c'è il rischio, purtroppo, che in Europa si vadano a armonizzare delle leggi sociali che in realtà sono delle leggi molto negative e che impediscono lo sviluppo e che dunque sono nocive per tutti. Dunque, penso che dovremmo uscire da queste ambiguità in cui siamo adesso. l'Europa ha cominciato in un modo che era soddisfacente, il mercato comune. Il mercato comune era effettivamente l'idea che si potessero migliorare le cose per mezzo della concorrenza e l'unica necessità sarebbe stata di estendere il mercato comune a tutte le attività umane. Allora, questo è stato fatto, per esempio, con la più grande mobilità dei fattori di produzione, bisogna riconoscerlo, con una politica di deregolamentazione, ma nello stesso tempo ci sono le politiche comuni, quindi l'Europa che conosciamo è un'Europa che è ambigua, ma che, secondo me, purtroppo, va troppo nel senso dell'armonizzazione. Allora, permettetemi di dire solo una parola a proposito dell'euro e dell'integrazione, di quello che si chiama l'integrazione monetaria. Bisogna riconoscere, certo, che la moneta è un bene particolare in questo senso, cioè che una estrema diversificazione non è auspicabile. La moneta è utile quando viene utilizzata da un grande numero di persone. Detto questo, secondo me, io non ero ostile, ma non ero particolarmente favorevole alla creazione dell'euro, per varie ragioni. Uno dei motivi è quello che avevo l'idea che non sappiamo in che misura sia utile per gli europei avere una moneta comune e da questo punto di vista sarebbe stato preferibile far agire la concorrenza e ricito Hayek, che ho già citato, concorrenza che aveva auspicato Hayek che si facesse semplicemente una concorrenza fra le monete che esistevano e si sarebbe visto che spontaneamente uno o due probabilmente sarebbero state scelte come migliori rispetto alle altre. E ad ogni modo questa concorrenza avrebbe incitato le autorità monetarie a proporre una buona moneta. Ma uno dei motivi, anche per i quali ero reticente riguardo all'Unione Europea monetaria, è che distoglieva quella che era l'attenzione dai veri problemi. C'è un'illusione dal punto di vista monetario. Si ritiene che si possano risolvere dei problemi reali per mezzo della politica monetaria. È un errore fondamentale che qui non ho il tempo per spiegare, però è un errore fondamentale. E si è lasciato credere troppo spesso che grazie all'unificazione monetaria, grazie all'euro, si sarebbero risolti tutti i problemi. La Commissione Europea aveva persino annunciato, pronunciato questa idea, che i modelli econometrici mostravano che grazie all'euro si sarebbe avuto una grande percentuale di crescita in più. Ovviamente questo era totalmente erroneo, era un'illusione, l'abbiamo visto. Mentre in Europa abbiamo dei problemi importanti di eccessi, di regolamentazione, di politica fiscale, si è distolta l'attenzione delle persone focalizzandola sulla creazione dell'euro. Ma c'era anche un altro aspetto importante, e cioè nelle menti di quelli che chiamiamo gli europei, ma che in realtà sono i centralizzatori delle decisioni, nella loro mente è molto chiaro che l'unione monetaria, la creazione dell'euro, era considerata come uno strumento per arrivare all'unione politica. Perché il ragionamento era che se priviamo i paesi della libertà di portare avanti la loro politica monetaria, saranno obbligati a coordinare le loro politiche di budget, fiscali, eccetera. Cosa che mi sembra falsa, perché si può benissimo avere una moneta unica senza avere un coordinamento delle politiche di budget, fiscali, eccetera. Sono delle cose che sono completamente indipendenti, si mischiano a torto questi problemi monetari e i problemi reali. Ma abbiamo visto bene che questa idea si è concretizzata, per esempio quando ci sono stati i problemi della Grecia. Il problema della Grecia è stato interpretato come una crisi dell'euro, solo perché la Grecia faceva parte della zona euro. Ma il problema della Grecia non era un problema monetario, era un problema di cattiva gestione del budget budgetaria e di un deficit del budget eccessivo a seguito di politica economica. Ma poiché la Grecia apparteneva all'euro, si è detto che era una crisi dell'euro e che i paesi membri della zona euro dovevano venire in aiuto alla Grecia e attribuirle degli aiuti finanziari. Si è detto che la Banca Centrale Europea doveva, contrariamente a quello che era stato detto quando era stata creata, doveva indirettamente monetarizzare il debito greco e quindi fare della creazione monetaria, eccetera. Questo era del tutto erroneo dal punto di vista delle idee ed era totalmente contestabile, ma precisamente è un'illustrazione di questo fatto, cioè si prende il pretesto dell'unità monetaria europea per cercare di rinforzare l'unità politica e di istituire delle politiche comuni. E spesso si è sentito dire che in occasione di questa crisi si è sentito dire spesso che per risolvere questo tipo di problema bisognerebbe come minimo un ministro delle finanze europee o anche un governo europeo. Questo è il grande rischio che corriamo. Dunque da questo punto di vista la creazione dell'euro è stata un po' pericolosa. Adesso, a dispetto di quello che ho appena detto, sono pronto a dire che, malgrado tutto, poiché l'euro esiste, bisogna tenerlo. Non ci sono motivi fondamentali per uscirne. E' abbastanza paradossale che a volte le persone che erano favorevoli all'unione monetaria adesso dicono Ah, bisogna uscire dall'euro per poter fare una politica monetaria nazionale indipendente. E cosa si vuole dire implicitamente in questo modo? Beh, quello che si vorrebbe fare è fare della creazione europea per poter svalutare la propria moneta. E qui pure sono delle illusioni considerevoli. Ma, malgrado tutto, possiamo immaginare qualche riforma. Prima parlavo della concorrenza fra le monete. Potremmo benissimo immaginare che si decida nei diversi paesi della zona euro che l'euro è una moneta comune a questi paesi, ma che i cittadini sono liberi se lo desiderano di utilizzare altre monete. Instaurare la concorrenza. E' sempre buona la concorrenza. Perché no? Per le monete. Allora, in definitiva, cosa dobbiamo aspettare dall'Europa? Cosa ci dobbiamo aspettare? C'è un pregiudizio comune che consiste nel considerare che se ci sono dei problemi è a causa dell'Europa o, al contrario, che se ci sono dei problemi in un paese si possono risolvere solo attraverso delle decisioni europee. Tutto questo mi sembra del tutto discutibile. Voi lo sapete, per esempio, dopo la crisi economica molto spesso si è perurata la causa di quello che si chiamano a torto politiche di rilancio europee parlando della necessità di avere grandi programmi di spese europee. è un po' quello che è stato fatto con il piano Juncker. Questo mi sembra essere un'illusione. Innanzitutto perché non è facendo delle spese pubbliche che si rilanciano economia. Al contrario, e non è perché questo rilancio è un rilancio europeo che si risolvono i problemi. Quello che mi sembra auspicabile, tenuto conto di quello che ho detto, è un'Europa che sia diversificata. Che non ci siano regolamentazioni europee, politiche comuni, armonizzazioni fiscali o regolamentari. Io sono ovviamente favorevole a un'Europa non solo a due velocità, ma un'Europa a varie velocità. E cioè che i Paesi, che i governi dei Paesi membri dell'Unione Europea possano liberamente decidere di adottare tale o tal'altra politica di tale o con questo o quell'altro Paese. Perché considerano che sia una buona politica. E se questo approccio fosse stato accettato, la Brexit non sarebbe successa. L'Inghilterra non avrebbe sentito il bisogno di separarsi da un'Unione Europea che trovava troppo centralizzatrice. Io mi ricordo di un pranzo a Londra in cui si trovava la signora Thatcher e io le avevo posto una domanda sulla posizione britannica riguardo all'Europa inglese. E lei mi ha dato una risposta che mi ha sembrata molto interessante. Mi ha detto che c'è una differenza di concezioni fondamentali fra il Regno Unito e l'Europa continentale dal punto di vista dei sistemi giuridici. Il sistema giuridico continentale è un sistema centralizzato dove la legge è votata dal Parlamento e si impone ai cittadini. Mentre il sistema inglese è un sistema, come sapete, più giurisprudenziale e più dipendente dai grandi principi di cui parlavo prima. Dunque ci sono delle differenze fondamentali di cultura giuridica o economica fra diversi Paesi. ed è per questo che un'Europa a varie velocità mi sembra importante. In questo caso le autorità e istituzioni europee potrebbero eventualmente suggerire delle politiche senza che ci fosse un obbligo di metterle in pratica. Idealmente io vedrei l'Europa come un insieme composto da una moltitudine di piccoli Stati in modo da ravvicinare il potere agli individui. Dunque come l'Europa delle Regioni in qualche modo possiamo sognare l'Europa delle città libere con una concorrenza fra di loro. Attualmente, lo sapete, c'è questa idea che ci sono dei principi acquisiti comunitari e che questi si impongono a tutti delle acquisizioni europee. Per esempio, se un Paese deve entrare nell'Unione Europea deve accettare queste acquisizioni europee. Dunque, un'Europa diversificata ma che sia fondata sulla difesa delle libertà individuali. Si parla spesso di deficit democratico europea ma non mi sembra questo il problema importante. La democrazia può essere totalitaria quello che è importante è che si difendano i grandi principi la libertà individuale e da questo punto di vista potremmo immaginare che una parte dei Paesi europei si mettesse insieme per difendere insieme la libertà individuale cosa che implicherebbe per esempio istituire dei sistemi giuridici in cui gli individui potessero invocare le loro libertà per esempio contro degli eccessi di politica fiscale. Dunque, un'Europa fondata su quest'idea che c'è un solo dovere e cioè rispettare i diritti altrui questa Europa sarebbe un'Europa pacifica, coerente e prospera. L'unica vera integrazione mi sembra essere questa contrariamente a una società che è dominata da un potere forte e centralizzatore in cui lo Stato risponde a una definizione che molti di voi conoscono e che è stata data da un grande economista francese Frédéric Bastien e lo cito con piacere Frédéric Bastien, molti di voi lo sanno è morto a Roma e questa mattina sono andato a rendergli omaggio alla chiesa San Luigi dei Francesi dove è sepolto. Frédéric Bastien diceva lo Stato è questa grande finzione attraverso la quale ognuno si sforza di vivere a spese degli altri e la chiesa San Luigi dei Francesi è la chiesa San Luigi dei Francesi e la chiesa San Luigi dei Francesi è la chiesa San Luigi dei Francesi